Musica Avete presente quando vedi un martello pneumatico lì che lavora in cantiere? Ecco, immaginatevi di avere dentro il cervello, dentro la testa, quel rimbombo lì ma di una goduria e di una bellezza infinita E' bellissima, che moto che hai, incredibile, di una bellezza stratosferica che è la prima cosa che balza agli occhi poi a me in questa configurazione estetica Winter Test, quindi dedicata all'SP2 mi piace veramente tanto, è cattivissima, bella bella Mi raccomando, mettete le cuffie e iscrivetevi a questo canale ora Dimmi che moto ho comprato, me lo devi dire te Ah sì, perché sia io stavolta a dirtelo Lo devi dire te, nel senso che io sono soddisfattissimo perché era una moto che mi piaceva, per cui non ho resistito non è una moto per la mia età, chiaramente però non ti sdegna a farci un giretto Che emozione stare su una moto del genere fa un portello allucinante Si vede, questa è una superbike, né più né meno tra qui e la superbike ci corre poco Dopo avermi portato con me sulla Desmo 16RR Qui siamo su un mostro, arrivato cent'anni dopo Tu l'hai provata e sai quello che... Direi di sì, che ditelo innanzitutto con la tua bellissima storia legata anche alle varie R e ai vari Ducati che hai avuto trovo che ci sia assolutamente un firuge capisco perché tu abbia voluto avere questa moto qua Come hai detto tu prima, nonostante l'età, ma chi se ne frega la passione e il cuore ardente È rossa È un suono gutturale, coinvolgente Totalmente diverso rispetto a quello della Desmo 16RR Che emozione ritrovarsi in questo garage in posti come questi con amici appassionati così tanto come noi come te Ne è passato di asfalto sotto le ruote da quella Desmo 16RR stradale stratosferica Ed oggi siamo qui con una Ducati Panigale V4 SP2 numero 75 Che spettacolo Un'icona moderna Un'instant classic La moto più bella dei nostri tempi Due lettere magiche che comparirono con la 851 alla fine degli anni 80 Sport Production Ma qui invece andiamo oltre Andiamo in sensualità e perversione Andiamo con Sacro e Provano La sacralità delle linee della Panigale della 1199 e 1299 rispettate la bellezza le proporzioni italiane profanate da questa bestia da questo motore V4 che riprende le geometrie e l'albero motore dal motore della MotoGP 2015 che ha 215,5 cavalli in questa versione una bestia da 1103 cm3 Il motore è un desmo 16 stradale e a noi ci ricorda qualcosa di molto piacevole Ora apre il gas io scusate Oh madonna mia ma che roba sei Ma la quantità di strada che fa con una facilità incredibile Qui leggiamo desmo 16 stradale il motorone derivato da quello della MotoGP su questa Ducati Panigale V4 SP2 1103 cm3 di felicità Si sta su un binario è durissima una tavola da surf incredibile chi ama soltanto i cordoli vuole soltanto i cordoli questa moto qua e noi che ci stiamo facendo qui in mezzo ve lo sto raccontando perché è un'emozione unica si comporta benissimo nonostante la mole i cavalli la coppia 123,6 metometri a 9.500 giri i cavalli invece sono 215,5 mostruosi devo dirti che tanto di cappello perché non ho trovato una moto facile o meglio è una moto che per sentirla facile devi farla camminare ed è una cosa spropositata anche per la strada perché c'è una potenza incredibile gestita benissimo con questo cambio superbike e questa prima e seconda molto lunghe si capisce che la moto vuole la pista la SP2 è costruita è un allestimento realizzato sulla base della V4 2022 decisamente il più grande upgrade e miglioramento del comportamento del mostro di Corgo appunto Panigale gli interventi elettronici sono serviti tantissimo questa moto nonostante tutto è facile da portare a spasso fatalmente tanto forte è incredibile quanto va da forte prima e seconda e bastano ci vorrebbero delle strade enormi ci vorrebbe il Mugello ci vorrebbero i rettiline infiniti per un motore così praticamente la rivoluzione lo stravolgimento del mondo Ducati con il motore V4 su una Sport Production seconda versione su base 2022 quindi tutta aggiornata a livello di elettronica con il cambio Superbike con la prima la seconda e la quarta molto più lunghe la frizione a secco STM con il carter in carbonio che la lascia vedere intravedere al di sotto meravigliosa questa frizione a secco permette inoltre oltre ad avere migliori prestazioni di poter intervenire sul motore con un olio appunto motore specifico per le sue temperature e per i suoi ingranaggi e i suoi movimenti quindi estremizza ancora di più le prestazioni quando la lasci scorrere senti che di una leggerezza di una precisione di una rapidità nei cambi di direzioni incredibili su questo credo che la SP2 confermi il fatto di essere la migliore moto a livello commerciale che si può comprare con gli specchietti i fari le frecce e la targa esistente sul mercato perché 1103 cm3 quindi non è estrema come la R anche a livello di manutenzione tutto però c'ha un corpo una spinta sotto una schiena incredibile con un allestimento che è al top del top perché questi cerchi qui questa leggerezza qui ce l'ha solo lei questa moto ha dei cerchi in carbonio sono meravigliosi una cosa spettacolare e soltanto grazie ai cerchi fa risparmiare quasi un filo e mezzo ma poi sulle masse non sono spese quindi fa letteralmente la differenza per fare dan zan destra sinistra guarda che bello sto cerchio ma con un cerchio così ma che te lo dico a fare ma soprattutto cliccate tanti like sotto questo video voglio vorrei a quanti like dobbiamo arrivare ragazzi arriviamo a 3000 like e io farò di tutto per portarvi questa ma che moto è questa uscita dal concessionario pesa 173 kg quello che sto guidando io in questo momento ha uno scarico o meglio un finale di scarico a Krakowicz con optional che le fa risparmiare peso e anche di portarsi dietro troppe strozzature ha una trazione schizza via con una facilità perché è tutto più leggero dove deve esserlo quindi dove deve il motore fare maggiore forza la può fare perché ha meno peso da spostare così come c'è meno peso da frenare davanti le flange i bocchettoni in carbonio per portare l'aria convogliatori alle pinze Brembo Stilema R impianto frenante al top Brembo con la pompa MCS Radiale Brembo una frenata gestibilissima e godibilissima la frenata portentosa ma soprattutto tanto gestibile modulabile impianto ovviamente che ve lo dico a fare Brembo 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 Stilema Stilema R è impressionante le velocità che raggiunge signorando il casco è incredibile Raffi Moto 6 Raffi Moto 6 le sospensioni sono neanche a dirlo solo al top di gamma Hollins all'anteriore forcella NPX 2530 pressurizzata steli rovesciati ovviamente da 43 mm con trattamento al team degli steli tutta gestita elettronicamente completamente regolabile al posteriore invece abbiamo un ammortizzatore ovviamente sempre Hollins TTX 36 anche questo gestito elettronicamente completamente regolabile la gestione del dell'ammortizzatore di sterzo è totalmente elettronica viene gestito benissimo l'intervento da qui di tutti i comandi per cambiare le mappe sbizzarrirsi è tutto modulabile che figata questa cosa puoi regolare con la tua ditina con la mano sinistra mentre sei in rettilineo ti allunghi la distanza della leva nel caso si fosse stancato troppo nelle staccate alla San Donato è tutto estremo è tutto pensato per esprimersi alla massima potenza e precisione questa grafica mamma mia com'è sta grafica col tricolore verde e rossa ora si è scurita perché siamo al chiuso vi voglio far vedere questo vi lascio così race mamma mia questa grafica da moto gp e da superbike perfetta la cosa più importante la marcia gigantesca la seconda cosa più importante il tempo sul giro chiude il gas e cambia la mappa che bella questa grafica il sogno di arrivare a staccare con questa grafica è felice il tempo reale tutto il tempo sul giro distacca l'ABS dove serve per fare i traversi che moto ragazzi attualmente sul mercato la moto più resi le performate che ci sia con la targa intanto di serie qui è tutto di serie abbiamo i ricambi rizoma perché questa moto esce di serie dal concessionario con la possibilità di chiudere tappare i buchi degli specchietti e anche quello del portatarga per essere ready to race pronta a entrare in pista ovviamente in questo caso avendo la portata purtroppo su strada purtroppo perché questo potevamo fare perché bisognava rispettarla abbiamo lasciato montato il portatarga bellissimo tra l'altro in carbonio anche questo guardate che meraviglia ragazzi questo cambio superbike è lunghissimo questa moto questa moto vuole solo la pista chiama solo la pista è incredibile questa prima è lunghissima ed entra di un bene ma di un bene un cambio di burro tra l'altro quando porti dalla seconda scali alla prima che non è il massimo per un cambio invece questo lo fai in maniera egregia perché appunto è tarato per poter usare molto la prima anche in pista quindi deve entrare benissimo lei però ti fa infiammare le chiappe perché tu praticamente sei seduto sul motore che è un elemento portante a tutti gli effetti dove si aggancia il telaietto posteriore è il telaio ovviamente il front frame in alluminio ragazzi brucia scotta perché lei deve andare a 200 km per raffreddarsi se no se sta nel traffico tra le curvettine si bolle i gioielli occhio metteteli al fresco pensate cosa possa essere portare questa moto al limite in una staccata tipo che ne so alla San Donato o entrare alla Campagnano a cannone quanto vorrei farlo mamma mia non è che spinge si apre le butelle proprio si squaccia il torace mamma mia che compostezza che signora che sei nonostante tutto non siamo nel tuo abitato naturale ma tu come rispondi ragazzi l'agilità di questa moto con questi cerchi è impressionante le stando non del lei del voi perché non potete immaginare la quantità di strada che fa sei bellissima sei bellissima ti amo che moto che moto stiamo strafazzando questa moto che è un onore a soltanto 3.700 km il profetiano la tiene come un oracolo la venera la santifica perché lei appunto è sacra e poi all'improvviso la profani così la dialenti perché appunto è sacra è profana sacro e profano di una bellezza indescrivibile un facolamore italiano la matita di Ferraresi ha rispettato quella con la panigale 12.99 l'ultima bicilindrica era troppo bella qui c'era bisogno di avere un po' di spazio in più perché i cilindri sono due in più per la prima volta dopo l'esperimento appunto l'unico esperimento stradale la Desmo 16RR nostra amica che ne abbiamo avuto l'onore di strapazzare per strada qui abbiamo due cilindri in più ci si rifà al motore MotoGP 2015 questa moto costa poco più di 40.000 euro si dà quasi tutto di serie poi ci si può sempre spizzarire con gli accessori qui credo che siamo arrivati a superare quello scarico le prese d'aria per i dischi credo che siamo sopra i 43.000 quindi è proprio una scelta non avere la R ma una scelta d'utilizzo questa la SP2 è sicuramente più stradale della versione R ma c'è degli accorgimenti e dei dettagli che sono forse anche superiori io mi accorgo mi fa anche piacere quando vado in giro e trovo gli altri motociclisti ieri sono andato a Magione la prima cosa che ho appena l'ha posata sono venuti subito lì a vedere la moto si ferma l'autodromo e vengono tutti da te questo fa piacere questo ti dice che in fin dei conti hai comprato un pezzo unico un'opera d'arte questa è la moto è lo stato dell'arte attuale del 2023 delle moto sportive incredibili e per il resto è una moto che appunto ti porta molto da moto sportiva anche un po' vecchia scuola non me l'aspettavo così tanto carico sui polsini avanti quindi devi lavorare di gambe e di busto di addome se no i polsi te li distruggi quindi chiama pista anche in questo aspetto qua per il resto che devo dire un suono il suono è pazzesco accendi e senti cantare da lì è una volduria anche soltanto fermarsi in garage guardarsela sentirla accesa mi fa piacere mi fa piacere pazzesca Roberto grazie mille grazie a voi io l'ho fatto volentieri sei una persona splendida per onorare per soddisfazione mia e per onorare anche la Ducati oggi la Ducati è la Ducati basta guardare il mercato le corse e le moto che sta facendo qualcuno cerca di imitarle ma non ce la fa quindi grazie per condividere la tua passione con noi aver scelto noi per la tua Ducati appunto la tua passione rossa grazie mille ma che bello che meraviglia sei grande grande la Panigale V4 è un oggetto dirompente nella storia di Ducati nella storia del marchio bolognese la matita di Andrea Ferraresi ha rispettato il precedente disegno della Panigale 1299 grandissimo successo ha dovuto semplicemente alloggiare se semplicemente si può dire quel motorone quel V4 trasformandola nella superbike più desiderata dei nostri giorni una vera opera d'arte di Ducati Ducati Ducati